Salve, sono qui in aeroporto e avete appena cancellato il mio volo. Mi scuso per questo e dato che abbiamo cancellato il suo volo, possiamo prenotarla per un altro domani. Quindi rimarrò bloccato qui per una notte? Almeno posso avere dei soldi per il cibo e l'albergo? Mi dispiace, ho già letto i termini e le condizioni del Dipartimento dei Trasporti e legalmente non dobbiamo dargli niente. Sei d'accordo che questo volo parte dall'Unione Europea? Ehm, sì. Sei d'accordo che di prenotare significa che arriverò con almeno 4 ore di ritardo? Sì. Sei d'accordo che mi hai avvisato della cancellazione quando mancavano meno di 7 giorni? Sì. Perfetto, allora secondo i diritti europei per i passeggeri mi dovete 600 euro e in più la prenotazione gratuita per un altro volo. Ma anche tu segue Adriano? Un altro che segue.